Glauco Onorato, un attore italiano, ha vissuto una vita straordinaria e piena di sfide personali. Nato il 7 dicembre 1936 a Torino, in Italia, il suo viaggio nel mondo del cinema lo ha portato a grandi altezze e lo ha spinto ad affrontare alcune delle prove più difficili della vita. Sebbene sia conosciuto soprattutto per il suo contributo al mondo del doppiaggio italiano, la sua vita è stata segnata da molto di più della sua semplice carriera di successo. Il fascino di Onorato per la recitazione ha messo radici in tenera età. Da giovane cresciuto a Torino, si è trovato attratto dal mondo del teatro e del cinema. Il suo talento, affinato in anni di pratica ed edizione, alla fine sarebbe diventato il suo biglietto per la celebrità. Il suo viaggio nel settore dell'intrattenimento è iniziato sul palco, dove ha sviluppato solide basi come artista. I suoi primi lavori teatrali gli hanno permesso di coltivare le competenze necessarie per eccellere nella sua successiva carriera cinematografica. Negli anni 60 e 70 la voce di Onorato divenne un suono familiare in Italia. La sua incursione nel mondo della recitazione vocale e del doppiaggio ha segnato l'inizio di una fiorente carriera in un campo in cui il suo talento era molto richiesto. Il pubblico italiano si è abituato a sentire la sua voce dare vita a personaggi di vari film e programmi tv, rendendolo una figura di spicco nel settore. Uno degli aspetti più importanti della carriera di Glauco Onorato è stato il suo ruolo di voce italiana dell'iconico attore Clint Eastwood. Per il pubblico italiano, la voce di Onorato è diventata inseparabile dal personaggio di Eastwood sullo schermo. Questo notevole lavoro di doppiaggio ha avuto un ruolo significativo nell'introdurre gli spettatori italiani ai personaggi e alle storie dei film di Eastwood. La carriera di Onorato come doppiatore gli ha permesso di raggiungere un vasto pubblico e di connettersi con gli spettatori a livello emotivo. Possedeva una capacità unica nel trasmettere le emozioni e le sfumature dei personaggi da lui doppiati, facendoli vivere per il pubblico italiano. Il suo talento nel catturare l'essenza delle performance originali è stato ampiamente riconosciuto, rendendolo uno dei doppiatori più ricercati del suo tempo. Mentre la vita professionale di Glauco Onorato prosperava, il suo percorso personale fu segnato da sfide e dolori. La perdita della sua amata moglie Marisa fu una tragedia profonda che lo colpì profondamente. La loro relazione era stata fonte di amore, compagnia e sostegno, e la sua assenza aveva lasciato un vuoto duraturo nella sua vita. La tragica perdita di Marisa è stata per Onorato un'esperienza straziante. Era stata la sua compagna di vita, fonte di forza e conforto durante gli alti e bassi della sua carriera. La sua scomparsa lo ha lasciato con un vuoto che non avrebbe mai potuto essere veramente riempito. La tragedia che ha colpito l'attore Glauco Onorato è stata la straziante perdita dell'amata moglie Marisa. La loro storia d'amore era stata profonda e duratura, piena di compagnia, sogni condivisi e sostegno incrollabile reciproco. Tuttavia, il destino ha riservato loro una mano crudele quando la salute di Marisa ha cominciato a peggiorare. Marisa era stata l'ancora della vita di Glauco, offrendogli non solo il suo amore incrollabile ma anche la sua comprensione delle esigenze della sua carriera. Gli è stata accanto durante le lunghe ore trascorse negli studi di registrazione, dando vita ai personaggi con la sua voce distintiva. La sua presenza era una fonte di forza, una presenza costante che gli offriva conforto nel turbolento mondo dell'industria dell'intrattenimento. Quando la salute di Marisa peggiorò, Glauco divenne la sua principale persona che si prendeva cura di lei. I ruoli erano invertiti e lui si ritrovò a prendersi cura dei suoi bisogni con la stessa dedizione e amore che lei gli aveva mostrato durante la loro vita insieme. Il loro legame, forgiato nel corso degli anni, si è rivelato indissolubile di fronte alle avversità. La coppia ha dovuto affrontare le sfide legate alle cure mediche, alle visite in ospedale e all'incombente incertezza che ha accompagnato la malattia di Marisa. Glauco vide la vitalità della sua amata moglie scemare lentamente e gli addolorò vederla soffrire. La sua forza e resilienza durante questa dura prova hanno lasciato un profondo impatto su di lui. La battaglia di Marisa contro la malattia è stata un viaggio estenuante, segnato da momenti di speranza e disperazione. Glauco era il suo pilastro di sostegno, fornendole cura e compagnie incrollabili, nonostante gli ostacoli. Era al suo fianco, offrendole conforto e conforto nei momenti più difficili. I corridoi dell'ospedale, le consultazioni mediche e il peso dell'ignoto hanno messo a dura prova sia Marisa che Glauco. Hanno affrontato queste prove insieme e il loro legame è diventato più forte mentre affrontavano le sfide della sua malattia. Ma col passare del tempo, divenne evidente che la battaglia stava mettendo a dura prova, e il sentimento di impotenza rosicchiava il cuore di Glauco. Il giorno in cui Marisa lasciò il mondo fu per Glauco onorato un momento di profondo dolore. La sua scomparsa ha segnato la fine di un capitolo della sua vita, lasciando un vuoto che sembrava impossibile da riempire. La presenza vibrante che aveva portato gioia e calore nella loro casa era ormai assente, lasciando dietro di sé solo ricordi. Il ricordo di Marisa viveva nel cuore di onorato, testimonianza dell'amore che avevano condiviso e della vita che avevano costruito insieme. La tragedia che dovette affrontare non fu solo la perdita del coniuge, ma anche la perdita di un confidente e di un caro compagno. Nonostante le difficoltà personali sopportate, Glauco onorato continuò a dedicarsi al suo mestiere. Rimase una figura di spicco nel mondo del doppiaggio italiano, lasciando un segno indelebile nel settore. Il suo lavoro ha continuato a risuonare con il pubblico ed è diventato una presenza duratura nel mondo della recitazione vocale. Tragicamente, la salute di onorato cominciò a peggiorare nei suoi ultimi anni. Le sfide che ha dovuto affrontare non si sono limitate all'ambito professionale, ha dovuto anche affrontare il costo fisico dell'invecchiamento. Tuttavia, la sua resilienza e determinazione non hanno mai vacillato. Ha continuato a prestare la sua voce a personaggi iconici, dimostrando il suo incrollabile impegno per la sua passione per il doppiaggio. In retrospettiva, la vita di Glauco onorato è stata una testimonianza del potere della voce umana e della sua capacità di connettersi con il pubblico a un livello profondo. Nonostante le sfide personali che ha dovuto affrontare, sarà sempre ricordato come un doppiatore straordinario che ha portato profondità ed emozione ai personaggi che ha doppiato, lasciando un segno indelebile nel cinema italiano. La sua eredità sopravvive attraverso gli innumerevoli personaggi che ha portato in vita con il suo talento eccezionale, un ricordo del potere duraturo di una voce che un tempo catturò il cuore di molti.